A cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara, Penne. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2.346 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Rispetto a due giorni fa, dunque, si registra un aumento di 72 casi su un totale di 1.042 tamponi analizzati, con il 6,9% di positivi sul totale dei tamponi. Nella giornata dell'altro ieri, i positivi erano stati 29 su un totale di 848 tamponi, con una percentuale del 3,4%. 324 pazienti, 17 in meno rispetto a due giorni fa, sono ricoverati in terapia non intensiva, 46 in provincia di L'Aquila, 87 in provincia di Chieti, 128 in provincia di Pescara e 63 in provincia di Teramo. 42, due in meno rispetto a due giorni fa, sono invece in terapia intensiva, 13 in provincia di L'Aquila, 9 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo. Mentre gli altri 1.484, con un aumento di 59 rispetto a due giorni fa, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 123 in provincia di L'Aquila, 301 in provincia di Chieti, 649 in provincia di Pescara e 411 in provincia di Teramo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 243 pazienti purtroppo deceduti, 3 in più rispetto a due giorni fa. Tra i nuovi decessi, alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata ieri, c'è quello di un 86enne di Pescara. Spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse. 253 sono i pazienti guariti, 29 in più rispetto a due giorni fa, di cui 202 da asintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 51 hanno invece risolto i sintomi dell'infezione, risultando negativi in due test consecutivi. È possibile compilare il bando per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale numero 9 del 2020 a favore dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio a causa della situazione di emergenza derivante dal Covid-19, che prevedono un contributo per l'acquisto di beni di prima necessità. La scadenza per presentare le domande è quella delle 23.59 di giovedì 23 aprile. Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari i cui componenti siano in possesso dei seguenti requisiti. Essere cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione Europea, oppure stranieri che rientrano nella fattispecie previste da un apposito comunicato che è stato emesso dalla Regione e che viene allegato al bando. I richiedenti il contributo devono essere residenti in Abruzzo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata in cui viene dato il beneficio in modo continuativo. Il valore compressivo alla data di pubblicazione della legge regionale 7 aprile 2020 dei depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e o postali intestati e componenti del nucleo familiare, per la quota parte nel caso di conti correnti cointestati con soggetti che invece non appartengono al nucleo familiare, e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti o sottoscritti, salvo buoni e o titoli vincolati intestati ai minori, non può essere superiore a 2.000 euro, incrementata questa cifra di 1.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al secondo, fino ad un massimo di 5.000 euro. I beneficiari non possono essere titolari, altrimenti vengono esclusi della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, la NASPI, e dell'indenità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, il DISCOL, oppure di reddito di cittadinanza. Non possono essere titolari, altrimenti vengono esclusi di reddito da lavoro subordinato pubblico o privato, ad eccezione della pensione, ovvero di altre forme di sostegno economico o di sostegno a reddito erogate, cioè fornite da enti pubblici, ad eccezione del contributo di solidarietà alimentare erogato dal Comune ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020. Alla domanda devono essere allegati l'autocertificazione da parte del soggetto richiedente, che attesti il possesso dei requisiti, la fotocopia dei documenti di identità in corso di validità, sempre del richiedente di tutti i componenti del nucleo familiare, esclusi i minori, la fotocopia del codice fiscale e per i soggetti stranieri, quella del permesso di soggiorno. Sulla base del numero delle domande pervenute, la Giunta regionale si riserva di determinare, con una successiva delibera, l'entità del contributo da dare a favore dei nuclei familiari che appartengano a una o più categorie. La fornitura del contributo non terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. E dunque il consiglio è quello di informarsi dettagliatamente su quanto prevede questo bando, che tra l'altro potete trovare sul sito della Regione Abruzzo. Si è concluso l'esame delle offerte pervenute all'ARIC per l'aggiudicazione dei lavori destinati alla realizzazione del Covid Hospital di Pescara. Al vaglio del RUP, cioè dell'ospedale Covid appunto di Pescara, al vaglio del RUP supportato da un collegio tecnico-amministrativo, resta la verifica di congruità della migliore offerta. E' quindi prevista per oggi alle 14 l'individuazione dell'affidatario. Il collegio tecnico-amministrativo di supporto al RUP, nominato dall'ARIC, è composto da tre direttori di dipartimento regionali. Intanto a Pescara e Montesilvano termosifoni accesi fino al 1 maggio. Lo prevede, proprio in conseguenza dell'emergenza coronavirus, lo prevedono le ordinanze dei due sindaci. Oltre mezzo milioni di euro di investimenti sull'ospedale di Popoli per garantire il diritto alla salute dei cittadini e la piena operatività di una struttura che in piena emergenza sta rivelando tutta la sua rilevanza e strategicità su un piano complessivo dell'azienda sanitaria pescarese. Buona parte delle procedure per il rifacimento del pronto soccorso, la riabilitazione e la chirurgia sono già partite e in alcuni casi, come per la farmacia ospedaliere, i lavori sono già conclusi, pronti a procedere con il trasferimento dai vecchi locali a quelli nuovi. A testimonianza di quella che è la direttrice del governo Marsilio, che gli ospedali delle nostre aree interne non li chiude, ma li potenzia, come in perfetta sintonia con l'assessore alla sanità Veri, che ringrazio per la sensibilità e la tempestività dimostrate e il commento del presidente del Consiglio regionale Sospiri, che ieri ha colto l'occasione per un bilancio degli interventi messi in atto per garantire la piena funzionalità dell'ospedale di Popoli. Con una nota aggiunta ieri, il commissario Arcuri comunica che la richiesta della Regione Abruzzo per autorizzare 8.255.000 euro di lavori in corso, alcuni già completati o in avanzato stato di completamento, per potenziare le terapie intensive e reparti di malattie infettive e opneomologia formulata dal 26 marzo scorso, non può essere autorizzata perché è d'obbligo attendere la prevista, credo ravvicinata, scrive Arcuri, programmazione nazionale che il compenetente ministero normerà quale pilastro essenziale dell'evoluzione delle azioni di contrasto all'emergenza. Dunque è rinviata ogni decisione solo dopo che sarà definitivo quel rinnovato quadro normativo e programmatico alla luce del quale valutare la compatibilità e praticabilità della richiesta. Sono basito e sconcertato, replica il Presidente della Regione Marsilio. Da tre settimane, dice, attendiamo l'autorizzazione a lavori necessari e indispensabili senza i quali avremmo avuto una carneficina, lavori che ovviamente abbiamo iniziato e in molti casi già completato anche perché nei quasi quotidiani confronti in videoconferenza prima Borrelli, il capo della protezione civile e poi il commissario Arcuri con il conforto dell'intero governo hanno sempre stimolato le Regioni a non perdere tempo assicurando copertura delle spese dietro rendicontazione. La Giunta regionale ha deliberato lo scorso 14 aprile la copertura assicurativa sanitaria temporanea per 47 unità della Smea, la struttura di missione per le emergenze di protezione civile regionali e l'approvazione del Piano delle prestazioni 2020-2022 i cui obiettivi sono stati aggiornati anche rispetto all'emergenza in corso. Due provvedimenti proposti dall'assessore al personale Guido Quintino Liris che li ha giustificati dicendo che gli operatori della Smea sono a lavoro in presenza fisica, non in smart working, non in lavoro agile e quindi più a rischio di contagio. Sono oltre 100.000 lavoratori abruzzesi che accederanno agli ammortizzatori sociali per l'emergenza Covid-19 che li ha costretti a sospendere l'attività lavorativa. È prevedibile che con una mole così straordinaria di richieste l'Inps eroghi le prestazioni con mesi di ritardo a danno di lavoratori e famiglie abruzzesi che non sapranno come far fronte alle loro esigenze di vita quotidiana a partire dall'approvvigionamento di beni alimentari e di prima necessità. Lo dicono CGL, CISL, UIL e UGL che hanno chiesto nuovamente all'assessore Fioretti della Regione Abruzzo un intervento per l'attivazione del tavolo con le banche che operano in Abruzzo. Ricordiamo gli appuntamenti religiosi con la nostra emittente alle 12.03 e la Santa Messa con il nostro direttore Donremo Chioditti alle 19.00 e quella dal Santuario della Madonna del Vigno Amore in Roma il Santo Rosario invece alle 11.30, 17.03 e 22.30 Ricordiamo i numeri dei centri operativi comunali di Pescara 085-4283-400 e Montesilvano 085-4481-326 numeri da chiamare se siete anziani o malati e vivete solo in casa e avete bisogno di spesa o farmaci. Siamo al meteo Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà mattino poco nuvoloso in tarda mattinate nelle ore centrali nuvoloso nel primo pomeriggio poco nuvoloso nel resto del pomeriggio e sereno in serata con temperature da 11 a 17 gradi e 20 deboli nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà pomeriggio poco nuvoloso nel resto del pomeriggio e molto nuvoloso in serata con temperature da 11 a 19 gradi e 20 deboli il mare è previsto calmo è tutto grazie per averci seguito e risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica ciao a tutti Grazie per la visione!